Ciao a tutti, oggi prepareremo le mandorle al cioccolato fondente. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più il tempo di riposo. Ingredienti sono zucchero, cioccolato fondente e mandorle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle ed azioniamo i bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Tritare per 3 secondi a velocità 5. Mettere da parte, senza lavare il boccale, mettere lo zucchero, il cioccolato fondente e tritare per 30 secondi a velocità 7. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Far sciogliere per 6 minuti, 60 gradi, velocità 3. Aggiungere le mandorle ed amalgamare per un minuto a velocità 2. Il composto è pronto. Con l'aiuto di un cucchiaino trasferire in pirottini di carta. Lasciare solidificare per almeno 3 ore prima di servire. Mandorle al cioccolato fondente. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!